ciao a tutti da TheFaceGame qui Taylor che vi parla avvicinarsi all'altine al campo perché mi piace ma scusa non te ne ci sta ascoltando la cuffia a Left 4 Dead la cuffia per fare il figlio ma non mi servono gioco a campagna, gioco online perché faccio la campagna, musso e la cagna no ma io gioco è normale è pedaggio di morte quindi online questo online ovviamente gioco io con una connessione allucinante la sfigatelli perché noi abbiamo una connessione con la Votafone Station che non la filmiamo perché ci vergogniamo troppo e qui in parte a noi praticamente basta una spinta per buttarlo in un po' posso farlo? no dai no perché dopo sono inculato ho il volume altissimo assente che la passo un po' un attimo la partita è già incominciata ma te non ci caga neanche di striscio no il gioco bisogna uccidere gli zombie me l'ha regalato TheGame allora senza chiedere bruto bastardo di merda allora ecco ti ha preso un... cosa si chiama? mi ha preso lo smoker vieni qua praticamente ha una lingua lunga come dice il perro vieni qua smoker bastardo e dopo devono liberarti per forza che fanno cos'è la lingua lunga? eeeh con la lingua lunga si fanno tante cose cosa succede? non io eh non io ma tu cosa ero? praticamente cosa è che ti lamenti? non so eeeh brutto bastardo zombie di merda col tasto destro col tasto destro praticamente spingimi gli zombie spingimi gli zombie con qualsiasi arma che hai mentre con ovviamente il testo sinistro fai fuoco e gli spacchi non c'è il mirino c'è neanche puoi mirare puoi sparare solo in un scoop ma col cecchino si però solo col cecchino cioè che cecchino hai ti ricordi? eeeh i boo ce ne sono dei cecchini ah si? si io sono il migliore chiaramente no il fucine intendo no? tu sei il peggiore fra i cecchini scusa hai mai giocato a te stamattina? eeeh no allora perchè stai andando avanti come un coglione? ma meglio sei no no lui è il leader io sono il leader guida allora siamo fottuti sono il leader io sono il leader io ho 83% di vita eh ah inoltre brutti bastardi per chi non lo conoscesse hai fatto fuori il tuo compagno ma cosa mi spari stupido tu sei idiota gli do con la padella adesso gli do cosa hai detto? che gli do con la padella senza che il resto ecco stai attento stai attento to bastardi tro 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 bastardo bastardi dai fai lo chef Tony fai il piatto con il sangue dai la cosa stazionata è stronzata ma cosa? tira va bene to in pieno l'hai beccato? si ma hai buttato via la magnum la magnum è potentissima no questa? la magnum si con un corpo ucide si è buona da mangiare che stronzata ma non mangi da ehi tu quello che hai messo con l'immagine del desert eagle desert eagle no non mi ricordo no e comunque praticamente l'obiettivo è arrivare sull'altra stanza cioè tu praticamente incominci a giocare vieni qua stupido capo apri il cancello e prosegui fino a fare tutto un percorso che ormai adesso sto curando una meta e devi chiuderti e non le sbarre a fine missione è un percorso da fare lo curro solo perché sono in un video se no mi sbatto il cazzo e anzi ci sbaravi tu? sii è anche gentile c'è cura agli avversari tanks tanks no il tank è anche un armi fucile a pompa ma questa è la F1 quindi fucile a pompa no la F3 2 ma scusami sposta aspetta 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 facciamo un altro facciamo un altro scusami vuole far vedere quanto scarsa questi personaggi è quelli vecchi? si cioè guarda sono arrivato dopo un'ora e sono già praticamente secondi in tutte le state di essere allora scusami voglio che tu prendi una motosega eh 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 ti piace eh eh aspetta devo farvi vedere come funziona la motosega torna solo un attimo adesso che tipo ci uccide l'apan... aaaaaaah ehhh io non sono ancora aah questa è una motosega moderna no no è mica tuo bastardo ah non sparare la fitta sto cazzo di fucile a pompa del cazzo fucile a pompa no perché c'è anche quello che spada a 10 colpi tun 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 tipo la 12 gun no invece qua invece è una merda cosa cazzo fai Diabom è Cotno Zitto ho detto Diabom eh bobo non si potrebbe dire eh dio eh eh anche questo si potrebbe dire allora ora che gli ammazza tutti i tombi bastardi non parlo perché ogni cosa che dico ho paura di dire pronunciare il nome Ivano Ivano ma non posso dirlo se dico dio non posso dirlo quindi dico solo Ivano vedi qua si può mirare cliccando la rotellina ah la rotellina è un po' no schifo però eh si non posso col tasto destro li mando via così non puoi mirare guarda mia oh oh no no ecco qua spariamo ah ah guarda un tuo non faccio un quickscope aspetta eh close the phone ma questa mappa qua c'era anche sull'alford 1 no no mi parlo questo non è il 2 no è il 2 è il 1 no l'alford è il 2 però questa mappa qua era be ready to fight the rock si a spara che arrivi da tutti quanti però no c'è colpa il tank è preso eh vai via vai via vado 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 via che quello lì mi ammazza di brutto eh lagga ma lagga non scatta ma lagga non scatta lagga che ti passa laga non fermare aiuto aiuto vai via da qui laga che ti passa guarda quanto scatta oh mio dio bastardo bastardo ma tu stai sparando ecco che cade adesso creperà no ha fatto cadere lo zombie mica sono scemo carica stupido numero ecco il numero ah ti hai dato la portella vedi adesso tu vai sopra creperai come uno stupido vai libera il tuo amico guarda oh se non ci sono io qua i miei amici sono fottuti hai dato eye cream vado a prendere lo spa non si può andare avanti con sta biga di funzione ma nessuno vai avanti per l'era comunque no aspetta ma faccio una quadrupla con un colpo hai preso il suo amico bene boom headshot bitch boom headshot bitch eccola la qualità la qualità non manca mai la qualità il kalashmikov beh la k la k ma va a fanculo va zombie del kalashmikov ma comunque quanta grana costa sto ma non costa tanto meno di 10 euro se non sbaglio per fare cioè è un passateppo è un passateppo incredibile cosa sta successo cosa sta successo la strada giusta è di qua comunque qua uno va per i cazzi suoi è un gioco di squadra comunque mi raccomando è un gioco dove è molto importante hai infastito la witch e che cazzo non le frega è un casino quando infastidisci la witch è un casino proprio cos'è qua il pilota oddio guardale arriva salvatore arriva taylor arriva taylor guarda il povero non dico niente guarda quella puttanella lì stavo bevelo io zombie bastardo ma zombie bastardi volente fai uno scuolo vai guardi ha bisogno di una cura in corso aspetta aspetta che mi do la cura vieni qua a correre un'azza guarda che gentile cioè aiuta la puttanella si ma che stupido quello lì eh io curo la persona e quello lì mi dà le spadate fa meglio lo spadio no aspetta che mi drogo va tossico mi prende un po' le pedole andiamo va la pillola va giù cosa c'è qua la pillola mi stava weapon seer basta un po' con il giro la pillola va giù la pillola va giù la pillola va giù cosa? era preso la pillola ah mi bastava rompere il vetro ah sai non mi piace rompere il vetro ahhh boom to bastardi scusate ti ammazzo io ti ammazzo stronto c'è il testo si ma hai preso a fuoco anche c'è il testo vai dentro vai dentro dai no non vado dentro la stanza io li ammazzo tutti cacca zombie bastardi un po' di Taylor Moore si adesso credo oh 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 cosa fai tu io eh to bastardi ma tu mori con colpo solo non era la witch quella lì ahhh la witch piange fa mmmm povero arrivo arrivo signor senza diverso tu bastardi ma che te non ti aprono ragazzi guarda c'è guardate non ti aprono finita la questione vabbè ragazzi se volete un'altra puntata di Left 4 Dead 2 se non sai a che urli eh con la motosega la prossima sarà con la motosega eh sì perché voglio la motosega e quindi se vi vi è piaciuto i creati sull'info ha 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 potrete iscrivervi al nostro canale ciao a tutti e al prossimo video ciao